Musica Anche la contrada di San Polo con i colori bianco e nero è al lavoro, la festa dell'Aquilone è vicina. Adesso c'è un pochino più di partecipazione, siamo all'ultima settimana e quindi probabilmente intensificheremo i lavori, anche se nei progetti più impegnativi probabilmente non parteciperemo, quindi parteciperemo alla gara tradizionale con gli Aquiloni di carta per il premio magari forse più sentito per la festa dell'Aquilone. Ci sono però anche alcuni giovani che stanno lavorando, ci sono anche comunque delle nuove lieve, cercate di passare anche voi la matassa? Sì, sono bravi ma non solo, ti dirò che c'è anche chi ha rinunciato a vacanze magari in Sardegna, preferendo venire la settimana qui per partecipare alla festa di domenica. Grandi nomi nella contrada di San Polo, si passa una matassa importanti perché grandi personaggi della festa dell'Aquilone hanno fatto parte di questa contrada? Ah beh sì decisamente, cioè figure storiche in passato appunto, Sirto è chiaro, è chiaro, sì sì, figura importante. Portate avanti un nome importante e questo entusiasmo per la festa, un pochino forse è stato anche coltivato da lui. Sì sì, era un simbolo, cioè un trascinatore, è stato l'anima insomma di questo gruppo per tanto tempo. E molti dei ragazzi un po' più giovani di me sono anche rimasti molto legati, continuano a partecipare, cioè chiaramente compatibilmente poi con gli impegni e la disponibilità. Giovani della contrada di San Polo, tra l'altro abbiamo qua il partecipante alla categoria Aquilonista Junior. Perché ti sei avvicinato alla contrada? Perché hai deciso di metterti in gioco e in gioco con gli Aquiloni? Perché prima di tutto per passare il tempo d'estate mi piace far volare l'Aquiloni, poi sono del San Polo perché mio padre è vissuto, è nato qui e mi piace far volare gli Aquiloni e anche costruirli. Ti stai esercitando per la grande competizione con gli altri giovani, delle altre contrade, come ti stai esercitando, cosa fai? Fai volare l'Aquiloni veramente tutti i giorni? Sì, in queste due settimane, nelle scorse, l'ho fatto volare quasi tutti i giorni, poi mi sto allenando anche a ritirarlo molto velocemente, solo che a volte mi fermo a farlo volare perché mi piace anche dargli filo e guardarlo andare in alto. Una vera passione per gli Aquiloni, tanto che qualcuno ha anche, diciamo, rinunciato, posticipato alle vacanze per essere qui in contrada. Sì, allora, è sempre stato un evento che accomuna un po' tutti i ragazzi di Urbino e anche quelli che vengono fuori da Urbino. Per esempio, mia mamma è di Urbino e quindi mi ha trasmesso questa cosa. Noto che qua c'è un legame diverso tra le persone e che è la cosa che mi fa tornare qua ogni anno. Da dove vieni perché? Vengo da Milano. Ci sono due posti completamente diversi. Comunque preferisco ogni estate venire qua quando ovviamente posso, perché ci sono persone diverse, mi diverto tantissimo e c'è un legame qua. Anche la sera, quando mangiamo, quando parliamo, che è molto, molto bello. Quindi tutti al lavoro, c'è una divisione dei compiti precisa o vi aiutate tutti come una grande squadra? No, in realtà ci aiutiamo abbastanza vicenda. Per esempio, io prima stavo aiutando mio fratello a fare l'aquilone perché così facciamo prima, ci divertiamo insieme. Non c'è una vera e propria suddivisione di compiti, ma tutti fanno quello che riescono e vogliono fare. Allora, in bocca al lupo e buon vento per questa 69esima festa. Grazie. Crepi. Crepi.